Simone, un debutto con gol, una bella prova tua e della squadra, avete messo le cose in chiaro fin da subito. Sì, ci voleva, perché dopo la sconfitta a Olbia bisognava riprendere un po' il giusto percorso, penso che l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, abbiamo un po' sofferto forse l'inizio e il secondo tempo, il primo quarto d'ora, però poi ci siamo riassestati, ho parato il rigore, ci ha dato la forza in più e poi col 3-0 mi hanno chiuso la partita. Ti sei callato subito bene in questa nuova realtà, avevi detto in sede di presentazione, sto bene, posso già giocare, direi che oggi l'hai fatto e l'hai fatto bene. Sì, dai, mi sono messo a disposizione del gruppo e ho cercato di fare tutto quello che mi era stato chiesto, è difficile entrare un po' nei meccanismi perché comunque mi sono allenato due giorni, però sono contento perché ho contribuito alla vittoria con un gol e quindi non posso chiedere di meglio oggi. Questo è un campionato che conosci bene, ti chiedo che gruppo hai trovato, anche qualitativamente, come ti sei trovato anche oggi, effettivamente nella prima gara ufficiale con i tuoi nuovi compagni. Qualitativamente lo vedono tutti, siamo una squadra che veramente potrebbe fare, secondo me, un'altra categoria per tutti gli elementi che ha dentro, sia chi gioca titolare ma anche chi non gioca. E poi comunque ho trovato un gruppo solido e compatto dentro lo spogliatoio, al di là del calcio, di ragazzi semplici che vanno tutti verso la stessa direzione. Grazie.